Da febbraio, nelle scuole medie del Piemonte, quattro classi per ogni provincia, gli educatori di Libera e ACMOS conducono un progetto formativo contro il gioco d'azzardo e la prevenzione dell'usura. Promosso dall'Osservatorio regionale sull'usura, il percorso formativo è articolato in laboratori differenziati per le classi prime e seconde e per le terze medie. Il percorso in un gioco vinco prevede l'intervento degli educatori di Libera all'interno delle classi, quali proporranno delle attività come il gioco di ruolo, la visione di reportage, la visione di video e delle inchieste sul territorio proprio per analizzare il fenomeno e la diffusione del gioco d'azzardo. Le classi prime e seconde ragioneranno maggiormente su che cos'è il gioco d'azzardo e su quali influenze i media hanno attraverso le pubblicità, mentre le terze medie rifletteranno maggiormente sull'infiltrazione della criminalità organizzata nel gioco d'azzardo.